Il disco Marrakesh è un disco importantissimo per il rap italiano, è anche uno dei miei favoriti personali, ha significato tantissimo sia dal punto di vista di mercato che da quello umano, visto che avviene fuori da un artista con cui c'è una fratellanza e anche un rapporto lavorativo-artistico venendo dallo stesso collettivo. È stato groundbreaking, come si dice in inglese, è stata una rivoluzione, penso che è stata la prima volta in cui, almeno per il mio gusto personale, un disco rap bello, perlomeno per me bello, che mi piaceva fino in fondo, avesse un grande successo. Come pezzo direi vado a un ciaccia, anche se scontato, ma proprio per simboleggiare la forza che ebbe. Era una produzione nuova, le radio lo passarono, secondo me, senza capirlo, come sempre, però, fu una rivoluzione. Ragazzi, sono Luque, e come tutti sapete è uscito il decennale del primo disco di Marrakesh, appunto Marrakesh, e sono qua per dire due parole a riguardo. Ieri l'ho riascoltato, anche se già lo conoscevo, però volevo ritornare un po' indietro negli anni, e devo rinnovare i miei complimenti a Marra, perché l'album, secondo me, è talmente attuale che mi ha fatto quasi sorridere del fatto che sia stato fatto dieci anni fa. Ho riascoltato i pezzi, mi sono meravigliato degli incastri delle punchlines e della quantità, per me, di punchlines che non finiscono mai. Era di sicuro il disco che mi ha comunque influenzato e ispirato in quegli anni, ed era comunque il disco a cui noi guardavamo con tanto rispetto e con una competizione sana, è quello che comunque ci ha spinto anche a noi a fare cose più forti e a cercare sempre, diciamo, di migliorare nel rap e nello stile, in tutto. È un disco che ancora oggi ha dei testi che sono superiori al 99% dei dischi che escono oggi. La rima che mi piace di più è quella là... Non sono in limo perché lo Sky è il mio limite, fatto il motorino Love. Mi ricordo che già allora fu la rima che veramente mi piacque di più per la genialità dell'utilizzo della parola e la semplicità con cui veniva detta sul beat. E riascoltandolo ieri in aereo è stata la rima che mi ha fatto sorridere come dieci anni fa. I miei auguri a Marrakesh per avere, diciamo, tutti questi anni di carriera alle spalle, per continuare a spaccare, per avere un classico nella sua discografia, un classico per l'hip hop italiano, Marrakesh, boss. Quando è uscito il disco Marrakesh avevo più o meno 15 anni. È stato un disco di grossa ispirazione per me e per tutta la mia generazione, comunque tutti i ragazzi che hanno iniziato a reppare più o meno in quel periodo. Il mio pezzo preferito era Sissi con la testa e bossavano le briciole. Bella Marra, spacca tutto. Allora, mi ricordo bene quando uscì il primo disco di Marra e ricordo che in quel periodo era quasi un'anomalia fare rap e avere successo. Se in quel periodo eri un rapper famoso, probabilmente la musica che facevi faceva cagare, anche perché dovevi scendere a determinati compromessi per poter andare in radio e fare classifica. Mentre il disco di Fabio è un disco fondamentale perché poi ha fatto capire a molte persone come me e altri rapper che si poteva fare, si poteva fare della buona musica e avere successo. Quindi grazie a Fabio che ha aperto le porte agli scappati di casa come me e ci ha permesso di poter fare il cazzo che ci pare. Quindi grazie Fabio.